ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video allora questo qui che state vedendo adesso è un refill fatto ad una mia amica e sto stendendo adesso questo colore pure white di passione unghie su tutte le unghie infine andrò ad applicare ovviamente sempre due passate dato l'ultima passata di colore di pure white andrò ad applicare la polvere aurora molto bello mi piace veramente tanto come è venuto lei è stata veramente veramente contenta perché è un effetto molto spettacolare l'unico effetto che a me piace di più tra l'effetto specchio arcobaleno perché non so proprio aurora infatti si chiama aurora boreale diciamo perché assomiglia veramente tanto mi piace veramente tanto infine andrò ad applicare luci di ultra gloss e l'olio cuticole tutti i prodotti possione unghie neanche io lascio il video spero che vi piacerà se sarà così metterete pollice in su se volete sotto il video mi commentate e noi ci diamo presto al prossimo video un bacio e la prossima ciao 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 ciao